Ehi, sono un palloncino, che fai di bello? Io nulla, me ne sto qui a caleggera mezz'aria. Sai, sono un palloncino, sì, insomma... Mi hanno creato senza braccia, attaccato il mio corpo, solamente questo ca... Cavolo, quanto è bello sto filo! È lungo, 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 così i bambini possono farmi volare in alto! Adoro, adoro Halloween Nintendo perché sono perfetto per un costume di it e amo le caramelle! E tu invece che cos'hai fatto ad Halloween? Io niente, odio questo cazzo di filo, odio questo rosso, è davvero me... Curio, meno male che non fanno più termometri come la volta, erano davvero molto pericolosi per i più piccoli! Invece è un peccato di tutti e tutti, soprattutto quei piccoli pitulanti! Possano tranquillamente andare tutti quanti a... Ah, ad Halloween che cosa hai fatto? Io mi sono vestito da vegano! Ehi, io mi sono vestito da cetriolino! Ma tu sei già un cetriolino! Ero nudo! A qualcuno serve una prevendita? Sì, grazie, a me servirebbe una! Sì, grazie!